Ciao a tutti, oggi prepareremo i biscotti tipo grisby al limone. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 40 minuti circa. Gli ingredienti sono per i biscotti zucchero semolato, limone, burro, sale, uova, farina per dolci o farina di tipo 00 e vanillina. Per la crema zucchero semolato, limone, fecola, burro, latte e uova. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo a preparare la base per i biscotti. Mettiamo all'interno del boccale lo zucchero semolato, la scorza del limone e la vanillina. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 20 secondi, a velocità 10. Finiamo sul fondo del boccale lo zucchero, aggiungiamo il burro, le uova, il succo di limone, il pizzico di sale e la farina. e azioniamo il bimbi per 20 secondi a velocità 4. Compattiamo l'impasto, avvolgiamolo nella pellicola trasparente e lasciamolo riposare in frigo per almeno un'ora. Abbiamo lavato e asciugato il boccale, adesso passeremo a preparare la crema. Mettiamo all'interno del boccale lo zucchero e la scorza del limone. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 20 secondi a velocità 10. teniamo lo zucchero sul fondo del boccale, aggiungiamo la fecola, il burro e il latte. e azioniamo il bimbi per 4 minuti a 90 gradi a velocità 4. Lasciamo raffreddare. Una volta che la crema si è raffreddata aggiungiamo il succo di limone e l'uovo. e azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 4. La crema è pronta, mettiamola da parte. Trascorsi il tempo abbiamo ripreso la frolla dal frigo, adesso la stenderemo tra due foglie di carta da forno. Abbiamo stesso la frolla, muoviamo il foglio di carta da forno, con l'aiuto di un coppapasto, uno stampino per biscotti e adesso andremo a ricavare i biscotti. prendiamo un po' di crema, schiacciamo un po' al centro della base e posizioniamo un po' di crema al centro del biscotto. Chiudiamo con l'altro biscotto e schiacciamo bene sui bordi. Continuiamo così fino a completare l'impasto. Oltre a formare tutti i biscotti, li cuoceremo a forno preriscaldato a 180 gradi per 20 minuti circa. Biscotti tipo grisbi al limone sono cotti, lasciamoli intiepidire prima di servirli. Biscotti tipo grisbi al limone, grazie e alla prossima ricetta. Biscotti tipo grisbi al limone, grazie e alla prossima ricetta. Grazie. Grazie.